È il primo appuntamento elettorale a svolgersi dopo il lockdown, ma pur sempre in tempi di emergenza sanitaria. Il 20 e 21 settembre i cittadini torneranno alle urne per le elezioni regionali, per le amministrative in 15 comuni delle Marche e per il referendum indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Anche le persone in quarantena manterranno il diritto di voto, ma con particolari modalità. A spiegarcele è l'assessore alla pulizia locale del comune di Fano, Sara Cucchiarini. Le persone in quarantena fiduciaria o che hanno sintomi di febbre potranno fare richiesta all'Asur del voto a domicilio. Dovranno compilare una richiesta, una modulistica specifica che c'è per questo e sarà un presidente di seggio con due scrutatori che andrà a casa del soggetto in questione per permettergli di votare. Il certificato potrà essere richiesto fino al 15 settembre o tramite l'apposita modulistica disponibile sul sito dell'Asur, la quale rilascerà la ricevuta di richiesta in PDF da allegare alla domanda, oppure attraverso l'operatore call center che mediante le linee dedicate effettuerà la domanda per conto dell'utente. L'operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione riceverà la richiesta e dopo aver controllato la veridicità potrà stampare il certificato numerato e inviarlo tramite PEC al comune di residenza. In vista delle norme anticontagio cambiano anche le modalità di voto all'interno dei seggi. All'ingresso del plesso ci sarà una confezione di gel per la sanificazione, si sanificherà subito le mani, sarà guidato da un percorso indicato a terra sia da entrata che da uscita e poi dalle persone che aiuteranno al non assembramento, protezione civile, i militari e la forza dell'ordine che saranno appunto in ogni plesso, ad andare verso il proprio seggio. Di fronte al presidente di seggio si recherà appunto con i propri documenti, il presidente quando gli farà accenno appunto di dare documenti, lui darà i propri documenti, farà un passo indietro, il presidente gli chiederà di abbassare la mascherina per il riconoscimento e a quel punto ritirerà sulla mascherina, verranno consegnate ad ogni elettore due schede per il voto per le regionali e per il referendum e la matita. Prima di prendere la matita si sanificherà di nuovo le mani e si dirigerà verso la cabina appunto per la votazione. Al termine sarà il cittadino che in modo autonomo dovrà inserire le schede nelle urne. Altre modifiche poi riguardano lo spostamento di due seggi nel comune di Fano. Ci sono delle piccolissime modifiche per solo due plessi, che è l'ex Carducci, tutti quelli che votano lì, quest'anno voteranno invece al liceo scientifico Torelli e chi invece votava a Centinarola voterà nell'unico plesso della scuola appunto di Centinarola che viene diciamo unificato. Per tutto il resto i seggi rimangono gli stessi dello scorso anno, quindi ognuno potrà recarsi nel proprio seggio.